Rito abbreviato per Mario Teoli, accusato dell'omicidio del padre Antonio lo scorso 31 luglio ad Esperia. Il parricidio potrebbe essere scaturito da un'eccessiva assunzione di alcol da parte del giovane. Per questo motivo il gruppo del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, ha accolto la richiesta avanzata dagli avvocati del quarantenne per il rito abbreviato. La vicenda rota attorno ad una sera d'estate, quando dopo le 21.30 è arrivata una richiesta di aiuto al 112 da parte di Mario Teoli, che sosteneva di aver accoltellato il padre. In pochi istanti l'operatore della compagna di Cassino ha avviato la procedura d'emergenza. Quando i militari sono arrivati in via Badia ad Esperia, lo hanno trovato sotto shock in giardino accanto al padre, con delle ferite addosso. Per tanti mesi i carabinieri del Rissa hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica e ricercare l'arma del delitto. Un coltello trovato poi nel cassetto della cucina. Il sostituto, procuratore Emanuele De Franco, titolare della delicata indagine, non ha lasciato nulla al caso. Sono stati passati al setaccio tutti gli oggetti appuntiti e i tanti pezzi di vetro trovati nell'abitazione. Fino a quando non è stato trovato quello compatibile con le ferite e le tracce ematiche. Una vita difficile è quella dei protagonisti di questa vicenda. Originari di Cassino, i due teoli, avevano anche dei precedenti con i carabinieri per aver aggredito il comandante della stazione di Esperia. Più volte le forze dell'ordine sono intervenute per sedare le loro liti fino al tragico epilogo.